Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Stranger Things, il sottosopra, gioco a cura dell'Acmon, e in questa edizione italiana che vedete qui davanti è a cura di Asmod Italia, che io come sempre ringrazio di cuore per la copia fornita, ed è l'ennesimo gioco, che non è una cosa, una parola negativa, comunque l'ennesimo gioco che sta uscendo con questo brand di Stranger Things, perché un po' tutte le ditte e gli sviluppatori vogliono un po' cavalcare l'onda anche del successo. Vi ricordate non molto tempo fa, ve ne avevo fatto vedere un altro, l'attacco del Mind Flayer, che questo è un gioco di carte, è molto carino, quindi come vedete di edizioni varie, di versioni varie, ne stanno uscendo veramente tante, ma devo dire che io da amante dei buon American, perché io sono amante di giochi American, e sono un fanatico di giochi con una bella mappa, sempre andiamo su HeroQuest, e delle belle miniature, non potevo lasciarmi scappare un titolo dell'Acmon, dove ci hanno abituati, come ad esempio Zombicide, avere dei giochi con tantissime miniature, in una qualità sempre eccellente, e una trasposizione sul tavolo veramente spettacolare, molto molto molto, secondo me unica anche nel contesto, che poi vanno ad affrontare sia futuristico, medievale o quant'altro, è sempre una bella rappresentazione. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Stranger Things, il sottosopra, gioco di Cmon, in questa edizione italiana, a cura di Asmol Italia, è un gioco cooperativo, come riporta la scatola dai 12 anni in su, si, va bene, si potrebbe anche provare a abbassarlo leggermente, da 2 a 4 giocatori, e la partita con i gatti che si ammazzano dura massimo un'ora, un'oretta, perché comunque è un gioco veloce. E in questa edizione, come vedete, a parte il sottosopra, nella parte bassa della scatola, abbiamo due stagioni, le prime due, quindi sarà possibile giocare nella prima stagione, con il Demo Gorgone e i suoi scagnozzi, o nella seconda stagione con i Demo Cani, se vi ricordate. Abbiamo il tabellone di gioco, che è la città di Hawkins, se non erro nello stato dell'Indiana, in cui potremo giocare tutte e due le stagioni del gioco. E in ciascuna stagione avremo nemici differenti da affrontare, ma soprattutto anche location differenti da visitare. Vi ricordate, nella prima c'era Hawkins e il sottosopra, mentre invece nella seconda c'erano i cunicoli, o meglio, i condotti che collegavano al sottosopra, quindi la mappa dalla prima alla seconda stagione è prettamente differente per quanto poi le location, bene o male, a parte qualche aggiunta fondamentale, sono quelle lì. Abbiamo tutti quanti i personaggi, ovviamente nella prima e nella seconda stagione Will Byers non è presente, perché è il ragazzino rapito che poi loro devono ritrovare un'altra volta. Quindi abbiamo tutti quanti, abbiamo Dustin, abbiamo Sinclair, le abbiamo tutti quanti, dal primo all'ultimo, e più c'è anche il capo Hopper e altri personaggi, abbiamo anche Undici, però Undici non è un personaggio giocante, se no sarebbe troppo forte con i suoi poteri, ma potremmo utilizzarla per sfruttare i suoi poteri, che sono segnati sulla mappa, sulla mappa di gioco, come vedete dal video, e ogni potere ha, non tanto una richiesta, lo potete usare una sola volta per partita, una sola volta, e sono poteri che vi fanno, vi salvano anche da una sconfitta, magari da un combattimento, e possono anche risolvervi una partita quasi praticamente persa, ma una sola volta per partita, e usare i poteri di Undici ha sempre un costo, che sono costi pericolo, che potrebbero andarsi ad aggiungere agli altri già presenti. Le schede dei personaggi sono tutte quante diversificate, ciascun personaggio ha un livello di movimento, una barra della paura, che ora poi vi spiego, serve praticamente per perdere la partita, se non si fa l'obiettivo, e un'abilità speciale. Quindi comunque, ciascun personaggio è ben diversificato, e ha uno scopo preciso all'interno del gioco. Nel gioco, ciascun giocatore pesca 5 carte, all'inizio turno abbiamo una mano di 5 carte, prendendo queste 5 carte, che sono carte azioni, ci possono dare dei punteggi, ma anche dei malus pericolo, ovvero, noi usiamo una carta azione, che ci dà un bonus di 3, l'aggiungiamo al movimento 1, e possiamo muoverci di 4. Però, magari, aggiungiamo una carta 3, l'altra volta dalla, la prossima volta dalla mano, che c'ha un simbolino pericolo, e quel pericolo, automaticamente, ci farà pescare, una carta eventon più affinazione, perché ciascun giocatore, quando è il tuo turno, usi tutte le carte che c'è in mano, però, a volte è meglio tenere, perché ora ve lo spiego, le puoi usare anche tutte e 5, senza modificatori, e ti servono per spostarti, oppure, quando capitate in una casella, per compiere l'azione di quella casella, e mi viene in mente, ad esempio, Talisman, quindi potete compiere, o l'azione del personaggio, o l'azione descritta sulla casella, cerca oggetti, cerca, prende un'alleata, e cose del genere, e dovete utilizzare, le carte azioni che avete in mano, carte azioni, che potete anche utilizzare, per levare, i token pericolo, da sopra la mappa, quella ad esempio, di poteri di 11, per riuscire, a risolvere dei problemi, ma, dovete tenere la mappa, sotto controllo, perché in questo gioco, si vince, se si salva, Will Byers, nella prima e nella seconda stagione, così si vince, si perde, se il tracciato paura, di ciascun giocatore, è riempito, quindi anche se un solo personaggio, Sinclair, Dustin, riempie il tracciato paura, fino a un fondo, la partita è persa, automaticamente, o, se, 11, arriva al, terzo stadio, e le carte azioni, sono finite, perché ogni volta che voi finite, le carte azioni, nella fase di pesca successiva, ne ripescate, fino a averne 5, e quelle usate, si vanno negli scarti, e si vanno a rimescolare, ma quando il mazzo dell'azione è finito, si rimescola, si rimette lì, e 11 va avanti alla fase 2, quando 11, quindi è un po' un counter del tempo, quando 11, arriva alla fase 3, terza volta che lo mescoliamo, arriva alla fase 3, e le carte azioni rifiniscono, al momento che è finito, e lei dovrebbe scattare alla fase 4, la partita è persa, quindi potete perdere in questi due modi, e le carte azioni si possono usare per tante cose, soprattutto per combattere il demo gorgone, prima stagione, o i demo cani nella seconda, per sconfiggerli, perché ogni volta che li incontrerete sul campo, potranno farvi perdere carte, alleati, perdere tempo, o darvi punteggi paura, il discorso della morte non c'è in questo gioco, ovviamente non si può morire, però accumulando paura, un solo ragazzino talmente terrorizzato, farà perdere tutta quanta la squadra, in conclusione, questo Stranger Things, il sottosopra, è un gioco veramente interessante, molto facile, tra l'altro come regole, ha un regolamento si, che lo prende la prima volta, sembrano un po' tante pagine, ma perché la prima metà è il setup, che non è difficile, diciamo è molto come manuale, molto esplicativo, ecco, te le spiega bene, molto logorroico, ecco, però perlomeno ti ci fa entrare subito, te le fa entrare in testa, alcuni concetti vengono ripetuti, magari una volta di troppo, però almeno ti ci rimangono molto meglio, è un gioco non troppo impegnativo, è un gioco fresco, veloce, che sicuramente farà divertire tanti gruppi, che cercano un gioco unicamente in cooperativa, e poi la mappa fatta bene, le carte veramente belli, i disegni, e soprattutto lo spirito che si respira, con queste bellissime miniature, di casa Akmon, è un gioco veramente interessante, e che sono convinto farà divertire, chiunque seduta al tavolo, quindi un gioco che potete anche, portare a gente meno avvezza, a titoli del genere, quindi è un gioco assolutamente consigliatissimo, se lo volete ordinare, come sempre, primo link in descrizione, in sovimpressione, dal nostro negozio sponsor, Gioco Libreria Simola, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se quando andate sul sito, Stranger Things, il sottosopra, cercate, è presente, ma sono finite le copie, in magazzino, oppure proprio non c'è in lista, mandate una mail, al supporto della Gioco Libreria Simola, direttamente tramite site, e fate presente, che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, non soltanto Gioco Libreria Simola, ve lo cercherà, se proprio è finito, quindi è finito, ordina delle nuove copie, per farvela avere, o se no, se il gioco non è presente, in catalogo, ma comunque reperibile, vi cerca anche giochi, fuori catalogo, a costo di farli arrivare, da un altro paese europeo, perché no, dagli Stati Uniti, quindi se vedete un gioco, che vi piace, ma non è in catalogo, invece di ordinare dal sito, mandate una mail al supporto, usate sempre il codice discount, Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, e per spese complessive, superiore ai 79 euro, corriere gratis, in tutta Europa, consegna in tutta Europa, in 48 ore, lo ordinate, in 48 ore ce l'avete a casa, quindi, Gioco Libreria Simola, è sempre, per me, il servizio top, eccellente, e veramente, andate a darci un'occhiata, ringrazio ovviamente, Asmo di Italia, per questa copia fornita, e ragazzi, per me, dateci una prova, assolutamente, assolutamente passato, o non ve l'avere portato sul canale, detto sinceramente, ciao, alla prossima, Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno, un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre, di iscrivervi anche, al canale Facebook, al canale mio, di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione, aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre, la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima.